Italia, paese sismico, ma anche paese fragile. Sono Franz Livio, professore associato in geologia strutturale presso il Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria. Il nostro gruppo di ricerca si occupa di geologia dei terremoti, quindi andiamo a ricercare le tracce geologiche lasciate da antichi e forti terremoti di cui non c'è memoria magari negli archivi della sismologia storica. Questo consente di stimare con maggior precisione la pericolosità sismica a cui una regione è esposta. I nostri risultati poi confluiscono in prodotti utili per la società e fondamentali, quali per esempio la mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale. Quello che facciamo di fatto contribuisce a migliorare la conoscenza del fenomeno sismico e a stimare correttamente la sua pericolosità. L'Università è il luogo in cui si para guardare oltre sull'orizzonte. L'Università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi. Grazie. 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 Grazie.